I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito 14 misure di custodia cautelare in carcere, spiccate dalla procura e controfirmate dal tribunale. Si contestano a vario titolo i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati oltre 100 i militari impegnati nell'operazione intitolata Fossa dei Leoni tra le province di Catania, Palermo, Cosenza ed Enna. Sarebbe stata smantellata una fiorente piazza di spaccio situata a lungo viale Grimaldi nel quartiere Librino di Catania, conosciuta come Fossa dei Leoni per la sua struttura morfologica storicamente riconducibile al crancappello. Tanti sono stati gli accorgimenti adottati dagli spacciatori di crack, cocaina e marijuana per non essere sorpresi dalle forze dell'ordine. Ad esempio, gli stupefacenti sono stati indicati camice per la cocaina, crackers per il crack e giubbotto per la marijuana. Durante le attività investigative i carabinieri hanno eseguito complessivamente 26 arresti in fragranza di reato, sequestrati circa 67 kg di droga in prevalenza marijuana, due pistole, un fucile e cattucce di vario calibro.